Ma non esageriamo, la crisi di giunta si fa per altre cose. Le Aufsneider sono oggetto di accanita discussione interna al partito della Stutture Volkspartei, però la cosa mi interessa relativamente, nel senso che loro possono avere dal loro elettorato tutti gli spunti e gli stimoli che ci devono essere in un elettorato effervescente e variegato, ma noi abbiamo fatto un accordo, abbiamo fatto un contratto con la provincia, è un contratto firmato, prevede una serie di cose, ha previsto anche la vendita dell'edificio delle attuali scuole Aufsneider alla provincia, che ci ha pagato, con quei soldi abbiamo già fatto delle opere a favore della città di Bozzano, quindi tornare indietro rispetto a un contratto già firmato, quando siamo già andati parecchio avanti, e fare un altro contratto vantaggioso per il comune, è una cosa che secondo me, oggi come oggi, è assai difficile. Se i miei amici e colleghi della Stutture Volkspartei sono in grado di fare questa operazione facendo sì che il comune ci guadagni, ben venga, ma io sono molto dubbioso che sia veramente possibile.